Vi aspetterà sicuramente uno spettacolo che ci auguriamo sarà ancora più emozionante, ancora più coinvolgente all'insegna della vera innovazione tecnologica, un'innovazione tecnologica che abbiamo voluto mettere proprio a disposizione della città di Torino per celebrare il patrono San Giovanni in maniera del tutto innovativa come con il lanciare in volo 200 droni come quelli che appunto abbiamo visto che creeranno delle immagini, delle figure votate a ripercorrere un po' la storia di Torino. È un'evoluzione e una innovazione in San Giovanni, non è particolarmente nuova la presenza di Irem perché da sempre accompagna questa festa, l'accompagna con la logica di una vicinanza ai territori e ai suoi territori e ai cittadini. Quest'anno appunto c'è un elemento di innovazione con l'introduzione dei droni e anche noi abbiamo voluto dare il nostro contributo con questa proiezione sul Palazzo Reale di videomapping, quindi con una alta definizione e io credo sia uno spettacolo molto carino, accompagnato da una compilation di brani che i Subsonica hanno fatto appositamente per questo spettacolo e questo sarà il passaggio dalla fase tradizionale a quella innovativa dei droni che seguiranno con uno spettacolo certamente molto efficace. Il tutto verrà creato con il combinare queste immagini con giochi di luce, colori, ogni drone può creare fino a 4 miliardi diverse combinazioni di colori che andranno dal blu al rosso al bianco e al verde e tutto questo pilotato da un unico regista. Abbiamo inaugurato le Olimpiadi Invernali in Pyeongchang, in Corea, però a Torino abbiamo voluto sicuramente creare qualcosa di personalizzato, ritagliato sulla realtà locale, da italiano sono orgoglioso di poter dire che secondo me sarà sicuramente ancora più innovativo, ancora più spettacolare, ma soprattutto con orgoglio posso dire che sarà in Italia il primo spettacolo più lungo mai realizzato da Intel nella storia e soprattutto quello di San Giovanni sarà il primo spettacolo pubblico mai realizzato da Intel in Europa. Grazie a tutti!